ragazzi ciao bentornate su un nuovo video parlo piano perché sono per strada oggi e praticamente si è venerdì non ci dovete rompere le scatole perché oggi andiamo a vedere liga bue a padova e ha deciso di portarvi con me e niente quindi adesso andiamo e quindi andiamo siamo arrivati abbastanza presto ma ci siamo già fermati stendo qua con la mia mamma ci siamo già fermate a a mangiare qualcosa e adesso ci incamminiamo ci mettiamo in fila e siamo in fila faccettina presa ragazzi poi vi faccio vedere anche non so dove sto guardando poi vi faccio vedere anche una magliettina bellissima non c'è nessuno tra l'altro siamo in fila noi abbiamo la tribuna e mia mamma ok noi siamo praticamente sui posti numerati quindi siamo sulla tribuna però visto che siamo davanti visto che non c'è tanta gente non tempiamo di andare sotto vediamo cosa succede tanto vi ho fatto vedere un pochino ancora non c'è tanta gente per fortuna i capelli mi piacciono vedete che sono un po più chiari rispetto a quando giri in casa e vabbè niente volevo dirvi anche questo sta riempendo c'è più gente verso il bar donne impegnate sui social scusa ma la tua maglia merita soltanto ma passa così qua per forza Però tu non hai visto il tocco di classe del bracciale qua? Ma mi pare, ah che bello, 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 è la canzone di Luca, ma io ce l'ho, e dov'è? A casa, brava, brava. Sì però se sbaglia la parola, noi sentiamo le parole giusto, una cosa. E' impossibile ma mi pare? Mi darebbe ansia di sapere che ci fanno. Mi fa per lavoro! E bello, ma l'ho, ma l'ho, ma l'ho, ma l'ho, ma che lei è contenta che pagasse. Dai! E lei è contenta che lei sappia a memoria perché lei compra tutti i cilindri. E' la verità? E io non so se si senta qualcosa, ma... però adesso e niente alla fine ci siamo messi sotto più vicino di così non si poteva grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti